La provincia dell'Aquila è una provincia sempre più virtuosa, la prima in Italia ad aver approvato il bilancio, un fatto di cui va fiero il presidente Angelo Caruso che questa mattina a Palazzo Silone ha presieduto l'Assemblea dei Sindaci, che è una delle fasi importanti degli adempimenti previsti per legge ma che è anche occasione per incontrare i primi cittadini dei 108 comuni della provincia. È un adempimento formale previsto dall'ordinamento che ci impone quindi il parere dell'Assemblea dei Sindaci, dei 108 comuni che costituiscono l'Assemblea dei Sindaci della provincia dell'Aquila ed è un'occasione anche per parlare del territorio, dei piani di sviluppo, tutto quello che abbiamo messo in campo per una stagione prossima, quindi che riguarda la programmazione economica e finanziaria di investimento soprattutto per il 2024. Lo facciamo con una tempestività straordinaria e forse credo che lo facciamo come prima provincia italiana a compiere questo attimento complesso che è basato su fasi articolate che partono dal decreto presidenziale, poi passano attraverso un Consiglio provinciale già compiuto, oggi si compie l'altro adempimento previsto dall'Assemblea dei Sindaci e poi a seguire di nuovo il Consiglio provinciale. Quindi quattro fasi che insomma rendono l'operazione di approvazione del bilancio complessa ma insomma ci siamo riusciti a farlo con una grande partecipazione dei comuni, dei sindaci, tutti coloro che hanno creduto e ci hanno dato fiducia attraverso questi anni rispetto ai quali gli investimenti e il rilancio della provincia si è fatta sentire, insomma c'è una soddisfazione diffusa.